Buonasera, questa sessione della Gorà è dedicata ad un incontro tra gli storici e gli statistici. Effettivamente è un tema che può sembrare anche un po' di nicchia all'interno dei grandi temi che vengono discussi in questa decima conferenza nazionale di statistica, tuttavia un legame forte, un collegamento forte anche con quanto è stato detto dal Presidente questa mattina in apertura dei lavori possiamo individuarlo, possiamo trovarlo. Il Presidente ha introdotto la decima conferenza citando un documento giornalistico nel quale si affermava che il Novecento è il secolo della statistica e possiamo dire che in realtà il Novecento oltre ad essere il secolo della statistica in realtà è il secolo della grande produzione di documenti di vari tipi e di vario genere e tra questi anche dei documenti statistici, tanto che il Novecento viene considerato il grande secolo dei grandi archivi. Soltanto per fare un piccolo esempio possiamo citare la guida agli archivi federali degli Stati Uniti pubblicata nel 1937 che poco dopo l'istituzione del National Archives la documentazione censita rappresentava circa 75 chilometri di materiale cartaceo. La stessa guida nel 1996 diceva, ci raccontava che nei vari depositi dei National Archives si conservavano nel 94 più di 750 chilometri di documenti cartacei, 300.000 bobbine di microfilm, 2.200.000 mappe e carte geografiche, 2.800.000 progetti architettonici e disegni tecnici, 9.200.000 foto aeree, 33.000 video, 7.000 archivi informatici, 7.400.000 fotografie. Questo soltanto per darvi un'idea delle dimensioni assunte dalla documentazione prodotta nel 900 soltanto in alcuni archivi. Quindi possiamo dire che il 900 rappresenta appunto il simbolo dell'esplosione quantitativa delle fonti documentarie nell'età contemporanea. Soltanto per capire ancora le dimensioni possiamo dire che i documenti degli ultimi 50 anni conservati negli archivi francesi hanno superato ormai un'estensione complessiva pari al totale della documentazione relativa ai dieci secoli che vanno dalla fine dell'alto medioevo alla seconda guerra mondiale. Parliamo dunque di un fenomeno di dimensioni gigantesche con il quale dobbiamo fare i conti e all'interno del quale abbiamo anche la documentazione quantitativa, cioè la raccolta sistematica di dati statistici da parte delle grandi istituzioni pubbliche e in particolare degli istituti nazionali di statistica costituiti, creati nei paesi, in quasi tutti i paesi tra la fine dell'ottocento e il novecento. Ora l'incremento in progressione geometrica quindi della documentazione accumulata dalle burocrazie pubbliche e parapubbliche rappresenta anche un problema di organizzazione della documentazione perché è una documentazione che assume una collocazione multipolare e cioè la possiamo ritrovare in punti diversi presso soggetti istituzionali diversi sia pubblici che privati. Questi sono gli anni in cui anche gli istituti nazionali di statistica si organizzano per raccogliere, per conservare la propria documentazione statistica, una documentazione fatta sia composta sia di dati statistici sia di materiale a corredo del dato statistico e quando si parla di materiale di corredo per farci capire meglio noi parliamo di metadati e cioè le regole, le condizioni all'interno, i metodi e le procedure che presiedono alla produzione del dato statistico. Questa documentazione che consente di capire in che modo il dato è stato prodotto, in che modo viene giustificato, viene diffuso, viene raccontato è una documentazione importante per l'utilizzatore finale, in particolare per lo scienziato sociale che si trova ad utilizzare non soltanto il numero ma tutto ciò che ha portato alla produzione che racconta il numero che è stato prodotto. In questo senso gli archivi degli istituti nazionali di statistica sono degli archivi di particolare che hanno un profilo molto molto particolare e diverso dagli altri archivi di altri enti pubblici da noi noti. Perché? Perché documentare, raccontare la produzione di un dato statistico richiede anche un'attività da parte dell'archivista, un'attività di conservazione e di selezione dell'informazione da rendere successivamente agli utilizzatori e agli studiosi finali molto o molto delicata. Chi conserva il dato è anche chi decide di selezionare il dato da conservare ed eventualmente anche l'informazione da scartare e questo è un passaggio assolutamente delicato, un passaggio che viene assegnato all'archivista, al documentalista, a colui che è d'accordo che svolge una funzione anche di custode dell'informazione che viene utilizzata. Detto questo possiamo dire che ci sono varie scuole di pensiero, ultimamente in particolare nei paesi nordamericani si sono polarizzate due modalità, due scuole di pensiero appunto sulle modalità di conservazione della documentazione. Una scuola di pensiero tende a valorizzare la capacità che ha l'ente di selezionare in maniera autonoma la propria documentazione nel momento in cui la produce e quindi di renderla successivamente disponibile in base ad una modalità di rilevanza del documento scelta dall'istituzione stessa. Questo vuol dire che l'archivista del passato che era colui che interveniva successivamente nel definire cosa sia o non sia rilevante ai fini della conservazione è una figura superata, viene superata dall'introduzione di tecnologie che nel momento stesso in cui il documento viene prodotto stabiliscono la rilevanza che determina poi la selezione, la capacità del documento di essere conservato o meno. Questo vuol dire che chi arriverà successivamente, lo storico che arriverà successivamente a consultare questo patrimonio sarà comunque uno storico che si troverà un'informazione già selezionata dall'ente che ha prodotto l'informazione. Una seconda scuola di pensiero sempre nordamericana, in questo caso è una scuola di pensiero introdotta da un archivista anche storico delle istituzioni tedesco, invece prevede un'altra modalità di conservazione, cioè la capacità che può avere la comunità degli utilizzatori di partecipare alle modalità di selezione del documento che deve essere successivamente consultato. Questo è un passaggio completamente diverso rispetto a quanto abbiamo detto precedentemente, perché individuare una comunità di utilizzatori composta da storici e famiglie, imprese, istituzioni pubbliche che di volta in volta partecipano alla definizione delle politiche di conservazione della documentazione prodotta dagli enti pubblici fa sì che il patrimonio che si rende disponibile sia un patrimonio in qualche modo condiviso dagli stessi utilizzatori, quindi un patrimonio non selezionato a priori dal soggetto, dall'ente che lo possiede e lo conserva, ma un patrimonio che viene condiviso è anche un patrimonio in cui la rilevanza che assumono le carte che devono essere conservati, i documenti che devono essere conservati, siano essi dati, informazioni quantitative, siano esse informazioni qualitative, sono documenti che possono essere visti anche attraverso modalità, griglie di rilevanza completamente diverse da quelle che può avere l'istituzione che li conserva e sono griglie di rilevanza che possono dare di volta in volta uno spazio, un valore, un interesse a un documento che racconta la storia di un'associazione oppure che racconta le modalità di organizzazione del personale di un'impresa o ancora l'informazione relativa ai redditi delle famiglie, ecco queste sono informazioni che assumono una rilevanza anche in base alla capacità che ha l'utilizzatore di segnalarne l'importanza a fini di studio e di analisi. Ora mi fermo qui, questo è semplicemente una piccola provocazione che potrebbe, che può creare le condizioni eventualmente di fare una chiacchierata sentendo un po' più informale rispetto a quanto abbiamo fatto finora, che per verificare anche attraverso gli utilizzatori che noi abbiamo qui in questa sessione, cioè storici, scienziati sociali, statistici, per capire qual è il loro punto di vista proprio nel rapporto, nella consultazione che svolgono quotidianamente nei confronti di carte, di documenti, di dati che si rendono disponibili di volta in volta presso i centri di documentazione disponibili. Grazie Letizia, allora io mi collego a quello che ha detto Letizia, in particolare all'idea di una comunità di utenti che definisce i criteri per conservare o distruggere la documentazione chiedendo agli statistici, agli scienziati sociali sono stati presenti, uno sforzo di immaginazione, nel senso proviamo a includere in questa comunità di utenti un utente estremo che è lo storico del futuro, cioè lo storico che consulterà la documentazione, che studierà la statistica che si fa oggi e utilizzerà i dati che stiamo producendo oggi. Diciamo che da storico io colgo questa come un'occasione per rovesciare il rapporto molto unilaterale che di solito gli storici hanno con le fonti. Gli storici non possono dire a chi ha prodotto i documenti che cosa avrebbero voluto sapere e come avrebbero preferito fossero stati scritti questi documenti. Quindi è un'occasione per cercare invece di parlare ai produttori di fonti per spiegare qual è la logica che guida il lavoro dello storico e perché la logica dello storico che è diversa da quella di altri scienziati sociali può essere utile per ragionare su come produrre e conservare i dati. Mi concentrerò su due aspetti, i dati quantitativi che interessano allo storico e il tipo di informazioni di contesto, metadati come di norma si chiamano, di nuovo che interessano allo storico. Dal punto di vista dei dati quantitativi va detto che agli storici non interessano di norma i dati macro, le tabelle, interessano i dati micro, più possibile disaggregati. La preferenza per i micro dati non è specifica degli storici, è comune ad altri scienziati sociali, a tutti quelli che per esempio fanno studi longitudinali. La specificità dell'esigenza dello storico deriva dal fatto che di norma pone domande diverse rispetto a quella dei contemporanei, vive in un altro tempo, pone domande che hanno a che fare con un altro mondo e soprattutto queste domande sono inconoscibili a noi, ai contemporanei. Gli storici di oggi non possono sapere che cosa interesserà agli storici fra 50 anni. È un effetto della temporalità che è specifico della disciplina storica all'interno delle scienze sociali. Per questo moltiplicare le variabili usate per l'analisi non risolve il problema. I micro dati sono micro dati nel senso il più possibile micro, cioè riferiti alle unità statistiche individuali. E lo si sta facendo. L'esempio migliore forse è l'UK Data Archive inglese, nato nel 67 da un comitato che si poneva, presieduto da uno storico tra l'altro, che si poneva l'esigenza, era partita l'idea dall'esigenza di evitare di replicare le indagini perché ricercatori di discipline diverse non avevano comunicato fra loro le loro diverse esigenze. Questa è l'esigenza che ha presieduto alla fondazione di quello che all'epoca era una sezione dell'European Research Council. Lo scopo istituzionale di questo Data Archive è ancora oggi ensuring data availability to current and future researchers. Quindi è scritto nello statuto di questo tipo di archivio che raccoglie dati ufficiali e dati prodotti da altri attori sociali e altre amministrazioni. Il problema dei futuri ricercatori è passato gradualmente da un problema semplicemente di migrare i dati su supporti diversi di volta in volta conservabili quindi da nastro magnetico a CD nello specifico a un problema di tipo concettuale che ha appunto a che fare col fatto che noi non possiamo prevedere ora quali saranno le domande future dei ricercatori. Su questa linea di un accesso diretto degli utenti ai microdati utenti che si registrano ma sono equiparati ai ricercatori interni in qualche modo, su questa linea si muove anche il Data Archive costruito dal US Census Bureau che è l'ufficio di accessimento americano. Un altro modello di accesso ai microdati è quello che è stato sviluppato in Svezia con il microdata online access in cui c'è un accesso basato sul principio del server based computing. C'è un server centrale che io posso interrogare e con un software che gira sul server centrale ricevere i risultati dell'elaborazione. Qual è la differenza? Che in questo caso ricevo l'output ma no, ma l'accesso diretto al microdato mi è dato solo in forma aggregata. La forma aggregata è che decido io, io pongo le domande, ho una lista di variabili ma non ricevo mai il database. In questo caso l'intermediario è un intermediario elettronico, un software. Nel caso della Banca d'Italia c'è la possibilità di consultare microdati in forma immediata da un intermediario umano. Io contatto un ricercatore e gli spiego il mio problema di ricerca che il ricercatore mi comunica il risultato della sua ricerca sul database di microdati. Questo disegna la presenza di due modelli. Un modello di accesso diretto al database con tutti i problemi di caveat contro abusi, problemi di privacy, problemi di uso commerciale dei dati a cui si ha accesso gratuito, eccetera. Un secondo modello è quello di un'elaborazione on demand fatta da un software piuttosto che da un ricercatore. Il problema è che questo secondo modello implica da un lato una cosa positiva, ho un contatto vivo in qualche modo, è un archivio vivo quello con cui parlo. Dall'altra parte le procedure di interrogazione dei dati contengono e nascondono dei criteri di elaborazione. Il problema è che i criteri di elaborazione nel tempo cambiano, sono scatole nere. In pratica il software mi indirizza verso alcune possibilità di ricerca e non altre. Questo mi permette, è un problema aperto fondamentalmente, ma mi permette di collegarmi al secondo aspetto che mi piaceva approfondire ora che è quello legato invece al tipo di dati, di metadati che interessano agli storici. Ovviamente agli storici interessa sapere come sono stati prodotti i dati, quindi note metodologiche esplicative che sono utilissime ma non sufficienti se lo storico non è interessato solo a ricostruire l'evoluzione oggettiva di un fenomeno, la disoccupazione nella storia piuttosto che il welfare o altri fenomeni, ma anche il modo in cui questi fenomeni sono stati percepiti, classificati e misurati in maniera diversa nel corso del tempo. Se questo storico è appunto, per quello di cui stiamo parlando qui, uno storico della statistica, il problema diventa più complicato perché gli storici della statistica nel loro dibattito degli ultimi 30 anni sono arrivati a condividere fra loro la convinzione che gli oggetti statistici, la disoccupazione, il costo della vita, funzionano, tengono, esistono, fin tanto che tengono quelle che Alain de Rozier ha definito le convenzioni di equivalenza, le definizioni e classificazioni che li hanno costituiti. Prima del 1900 la disoccupazione di fatto era un concetto molto labile, non definito in maniera precisa, è stata una costruzione di un concetto statistico. Allora, gli storici della statistica sono interessati al mutamento di queste convenzioni, come cambiano le definizioni nel lungo periodo, un lungo periodo che è lungo perché è attraversato da discontinuità, può durare cent'anni o cinque, l'importante è che in quel periodo cambia il modo in cui viene percepito, misurato, definito un fenomeno. Questo interesse per il lungo periodo così definito è tipico di nuovo soltanto degli storici. Questo significa che non bastano per gli storici le informazioni sul modo in cui i dati sono stati prodotti, ma gli storici della statistica sono interessati anche a informazioni sul dibattito che c'è stato su queste modalità, su come gli statistici hanno litigato, su cosa misurare, come misurarlo, chi interrogare, quindi sulle motivazioni dell'indagine, le domande che si ponevano i ricercatori, i criteri di rilevazione utilizzati, chi sono i rispondenti selezionati, i criteri di elaborazione che hanno a che fare con l'evoluzione del pensiero statistico, del metodo statistico che ha una sua storia. Allora, tutte queste informazioni permettono allo storico di mettere in luce l'articolazione pluralistica delle posizioni in materia di indagine statistica e d'altra parte permette di relativizzare la coerenza del dato. Allora, come gli storici che si sono occupati della statistica in Italia sanno bene, le fonti per ricostruire questo tipo di dibattito, di alternative che avevano gli statistici nel passato, sono sì il dibattito sulle riviste scientifiche, sì la corrispondenza privata tra gli statistici, ma c'è una fonte edita privilegiata che per l'Italia è sempre stata il punto di partenza per la statistica ufficiale, per studiare la statistica ufficiale, che sono gli atti del Consiglio Superiore di Statistica. Lì dentro si discuteva che indagini fare, come farle, se finanziarle, eccetera. Venivano pubblicati sugli annali di statistica, talvolta con anni di ritardo, talvolta in forma riassuntiva, ma erano un punto di partenza fondamentale. Il problema, se ci mettiamo dal punto di vista degli storici del futuro, è che con la riforma dell'89 il Consiglio Superiore di Statistica è stato abolito, è stato sostituito da organismi diversi, in particolare il Consiglio dell'Istat e il Comitato di Statistica, che sono organismi autorevoli, le cui riunioni si svolgono regolarmente, sono verbalizzate, ma non sono pubblicate. E il problema è come sono conservate queste e perché non sono accessibili, l'invito che fanno gli storici, ma da utente in generale, è a pubblicare il dibattito sulle scelte di misurazione dell'Istat. Il problema è che l'utente interessato al dibattito metodologico non riesce a coglierne l'articolazione oggi. Questo ha un effetto duplice sull'autorevolezza del dato. Nel breve periodo è utile perché mostrare che non si è litigato su come misurare qualcosa dà solidità a un criterio di misura, ma nel lungo periodo, quel lungo periodo attraversato da cesure inevitabilmente, i criteri con cui misuriamo oggi alcuni fenomeni cambieranno prima o poi nel futuro, mina l'elasticità. La rottura diventa una rottura disastrosa. Perché se prima non c'è mai stata discussione in apparenza, quando si rompe si rivoluziona. Mentre uno degli effetti di rendere pubblica la discussione, uno degli effetti storici dal 1872 al 1989, 115 anni e più, è stato anche quello di rendere possibili passaggi anche istituzionali molto di rottura in una procedura, in un processo che in qualche modo era continuo. Apro una parentesi breve. Uno statistico potrebbe chiederci, d'accordo, ma qual è l'utilità per la statistica di questo tipo di approccio storico? A cosa serve allo statistico sapere che nel passato si faceva in maniera diversa? Una delle opinioni che non è mia e di uno studioso americano di storia della statistica, Tom Steppelford, è che sia quasi indispensabile, la storia sia l'unica palestra possibile per cogliere gli interstizi, capire come ci sono interstizi aperti all'infiltrazione di decisioni politiche, politiche in senso molto lato, scelte, aperte, all'interno di procedure che restano metodologicamente corrette. Per cui lo statistico resta un bravo statistico, ma all'interno delle sue procedure ha molti margini di libertà, piccoli, ma ci sono. Allora studiare il dibattito permette di capire come scelte politiche si sono infiltrate storicamente dentro il modo in cui sono stati prodotti i dati. concludendo, l'invito che io faccio è a pubblicare oltre ai dati, ai microdati e ai metadati anche i verbali degli organi in cui si discutono gli oggetti, le modalità, i metodi d'indagine e a registrare le pratiche e le procedure che sono elaborate e trasmesse per via orale. Ci sono delle scelte che fa lo statistico che non sono scritte da nessuna parte. Forse una volta lo erano perché si lavorava molto più per iscritto, ma oggi diventano una scelta individuale che viene trasmessa oralmente, è conoscenza tacita a volte, che si impara facendo da qualcun altro, ma che non è scritta da nessuna parte. E fra 10, 20, 50 anni nessuno riuscirà a riconoscere dove passa questo cambiamento. Io volevo innanzitutto presentare il professor Giovanni Favero perché non ci siamo presentati poi alla fine nella fretta dell'Università di Venezia ed è un professor Favero, collabora da tempo con l'ISTAT, come avete potuto vedere probabilmente anche in alcune pubblicazioni degli annali di statistica, quindi ha lavorato sul tema della storia della statistica da tanti anni e non ultimo, tra l'altro mi fa piacere citare l'ultimo numero di quaderni storici in cui, curato appunto dal professor Favero, in cui si fa una riflessione a tutto campo sulla storia della statistica, ma non soltanto in cui la storia della statistica ufficiale diciamo rimane un po' sullo sfondo, anche se c'è comunque, rimane sullo sfondo perché vengono valorizzate e invece altre fonti statistiche altrettanto autorevoli nel passato di quanto non fossero anche le fonti della statistica ufficiale, mi riferisco a un'indagine della Banca d'Italia, a una riflessione del dibattito, alla ricostruzione del dibattito sulle definizioni, le classificazioni introdotte dalla contabilità nazionale per i conti nazionali, quindi fonti comunque autorevoli. In più c'è anche un affaccio sul contesto internazionale che comunque esiste e che dal 1950 in poi influenza la produzione statistica e con il quale la statistica ufficiale ha dovuto fare i conti e fa i conti ogni giorno. Questo è un altro passaggio assolutamente importante per chi lavora sulla ricostruzione del dato statistico, proprio per capire anche le ragioni nel lungo periodo dei cambiamenti, delle modifiche importanti che ci sono state anche nella costruzione delle definizioni e delle classificazioni. Per cui se è vero che una volta si definiva disoccupazione o occupazione, si definiva in casa il concetto, il perimetro anche all'interno del quale doveva essere prodotto un dato, da un certo momento in poi questo perimetro è stato definito attraverso un'attività di negoziazione con altri soggetti esterni ovviamente al contesto nazionale. Si è dovuto trovare forme di armonizzazione, di conciliazione con delle definizioni nazionali, con quelle internazionali, con una complessità anche procedurale e di elaborazione del dato assolutamente inedita agli statistici degli anni 40 e degli anni 30 naturalmente, cosa che ha obbligato anche gli storici a confrontarsi con problemi naturalmente molto diversi rispetto a quelli della statistica del passato. Ora naturalmente questo è un altro suggerimento a cui sottoponiamo al pubblico per fare una riflessione anche su come sono cambiate le condizioni di studio della statistica e della produzione naturalmente della statistica negli ultimi anni e come anche gli storici, ma non solo gli storici, anche i sociologi, anche gli economisti si confrontano con queste fonti rese disponibili non soltanto attraverso le pubblicazioni ufficiali ma anche attraverso l'accesso diretto ai dati attraverso la disponibilità di database interrogabili non soltanto presso l'Istat, quindi la statistica ufficiale, ma anche presso la Banca d'Italia, presso altri soggetti pubblici che consentono di accedere alle loro fonti quantitative. Gli storici dell'età contemporanea hanno un rapporto abbastanza diversificato nel loro insieme con i dati. Molta parte degli studiosi approccia ai dati come se dovesse entrare in un supermercato da saccheggiare per prendere delle cifre che possano essere inserite in una nota a piedi pagina o spiegare e dare la chiave di volta a un'interpretazione storiografica manifestando in modo evidente qual è stato l'esito di un processo o la grandezza di un evento. Certo, c'è chi li usa con maggiore raziocinio, cioè si pone un problema sulla qualità del numero. E poi c'è, diciamo, se questo avviene da una parte degli studiosi non d'occasione, insomma, ma da parte di chi fa lo studio di professione, ci sono studiosi d'occasione che poi sono quelli che fanno cultura storica, cioè sono quelli che vendono 200.000 copie rivedendo l'intero processo risorgimentale del sud, insomma, che i dati proprio li vedono come, diciamo, una cosa aleatoria, li sparano più che controllarli. Secondo Pino Aprile il regno delle due Sicili era la terza potenza mondiale, insomma, io non so sulla base di quali cifre e di quale documentazione abbia costruito questa interessante prospettiva, ma insomma, in una graduatoria, vederlo il terzo dalla cima invece che il terzo dalla fine, già mi sembra una notevole acquisizione storiografica, se solo fosse provata, insomma. Oppure, in un recente libro pubblicato da Giordano Bruno Guerri, il sangue del sud, le cifre dei morti per la repressione del brigantaggio crescono in misura esponenziale rispetto a quelli che conoscevamo, pure qui, però la fonte rimane abbastanza misteriosa. E se vediamo un altro libro che ha suscitato grande polemica in passato, quello di Giampaolo Panza sul sangue dei vinti, non so se tra l'altro notate che appena uno storico inserisce nel titolo la parola sangue, subito si genera, diciamo, un dibattito per la nostra cultura un po' morbosa, insomma, dei media. E anche lì le cifre del regolamento dei conti da 20.000 erano salite improvvisamente a 40.000, cioè al doppio. Tra l'altro, tutto ciò senza, diciamo, elementi comparativi, perché cifre più controllate ci dicono che lo stesso fenomeno del regolamento dei conti alla fine della seconda guerra mondiale in Francia comportò circa 200.000 vittime. Quindi evidentemente è il portato, diciamo proprio che la storiografia può dimostrare senza particolare fatica, è il portato della fine di un periodo di forte tensione e anche di vendette individuali. Ora, quindi, cos'è, diciamo, questo ci porta a un'ulteriore considerazione, e cioè il fatto che non ci sia un particolare legame nel lavoro di molti studiosi, non dico di questi ultimi casi perché ovviamente questi sono studiosi così d'occasione che tendono a fare diciamo un dibattito mediatico più che, diciamo, affrontare reali processi storici avvenuti nel Paese. Ma il dato che ci si pone, cioè il problema che ci si pone è questo progressivo e tendenziale distacco tra la considerazione del dato e del documento che l'ha prodotto. Cioè non solo nelle cifre sparate a caso, questo non è neanche il caso, diciamo, di prenderle in considerazione, ma il fatto che dietro l'uso del dato molto spesso non ci si pone il problema di come a quel dato si è arrivati. Per questo io ritengo che sia quello che ha detto Letizio Daudiria, sia quello che ha detto Giovanni Fauro, siano questioni di grande interesse perché entrambi si pongono la questione di sfruttare sia da produttori sia da utenti del dato poi, un dato che abbia una sua affidabilità, una sua, non dico certificazione, ma una sua tracciabilità di percorso almeno. Che quel dato sia effettivamente presentato come un documento affidabile. Quando noi leggiamo una relazione prefettizia, appunto Letizia citava il Novecento come secolo degli archivi, tutti i documenti che noi troviamo in un archivio ci devono porre sempre il problema se quel documento che stiamo leggendo ha un margine di affidabilità, ha un margine di veridicità, quali motivi ci sono perché l'estensore di un documento scriva delle cose anziché altre cose e quanta attinenza c'è rispetto alla condizione reale che descrive. Uno dei primi lavori che ci trovavamo a fare insieme proprio con Letizia Daudilia riguardava per esempio alcune statistiche sull'economia del periodo fascista e lì da ancora portavamo i calzoni corti forse e lì ci rendemmo conto che il problema non era tanto quello di tirar fuori delle cifre ma porsi il problema, quelle cifre rispondevano esattamente e in modo veridico alla realtà delle province che noi andavamo a interrogare per la ricostruzione di serie storiche in bare sull'agricoltura se non era. Quindi il problema effettivamente esiste nella parte nostra molto spesso nella trascuratezza e un po' nella superficialità con cui acquisiamo il dato che troviamo già bello e pronto e precotto e da parte del produttore quello di non presentarlo con la necessaria premessa sui metodi, sui criteri e sull'elaborazione con cui quei dati sono stati costruiti. Per questo io voglio raccogliere l'invito che qua è venuto nella creazione di una comunità, cioè fateci entrare nella scatola nera dei dati, continuiamo a discutere su questi argomenti perché da una parte noi possiamo diventare più consapevoli dei processi storici e oltre che archivistici e del dibattito, su questo io e Giovanni sono assolutamente d'accordo sul fatto che tutto va esplicitato e pubblicato perché è un processo di ulteriore consapevolezza di ciò che stiamo utilizzando come fonte, oltretutto, oltre a fornire altre prospettive. Quindi io francamente raccoglierei molto volentieri questo invito a costituirci in una comunità, recentemente in un convegno di archivisti ho provosto una sorta di alleanza tra parenti insomma, perché siamo tutti impegnati in un discorso che non è soltanto legato alle nostre discipline e alle nostre metodologie. Noi oggi con il declino intellettuale e culturale abbiamo anche un compito civico, cioè quello di ridare solidità al mondo degli studi, cioè rendere un servizio diciamo culturale ma con la modestia di ognuno di noi, con quello che può fare, però con l'onestà intellettuale di mettersi seriamente al tavolino abbattendo diciamo in parte almeno tenendoci ognuno le proprie specializzazioni ma se oggi non si dialoga tra discipline diciamo noi contribuiamo in qualche modo alla sterilizzazione del dibattito culturale più generale, almeno questa è la mia impressione. E non so se Giovanni aveva qualcosa magari da aggiungere anche, sempre per riprendere il filo della discussione relativamente al pericolo di una trasmissione di informazioni non documentate attraverso degli atti tra virgolette formalizzati all'interno degli istituti di statistica che producono i dati. Giovanni infatti ti cedo la parola su questo, questo perché nel caso degli statistici ufficiali tutti quanti sappiamo che quando si lavora a volte nella fretta si documenta meno di quanto si vorrebbe l'attività che si svolge ma se noi nel lavoro che svolgiamo capiamo quanto può essere importante lasciare traccia e quindi rendere tracciabile per l'utilizzatore, l'utente esterno, ricostruire attraverso la traccia che noi lasciamo il processo anche di produzione del dato, anche l'attività operativa, quindi non soltanto la discussione all'interno degli organi che governano e che coordinano la produzione statistica ma proprio a livello anche più interno, più verticale della produzione del dato che anche il livello operativo documentare l'attività in questo senso rappresenta un'operazione scientificamente corretta anche per l'utilizzatore esterno e non soltanto interno del dato che è in grado in qualsiasi momento di capire in che modo questo dato è stato prodotto, quali sono i limiti ma quali sono anche le potenzialità Grazie Letizia, confesso io ho accennato a questo problema verso la fine e confesso che quello che so di questo problema lo devo anche in parte alle cose che ha scritto Letizia Dautilia nel senso che a volte alcune idee su come hanno funzionato in passato i problemi della produzione del dato vengono dal fatto di avere esperienza della procedura concreta nello specifico mi riferisco a un accenno che Letizia fa in un articolo sulle statistiche dell'agricoltura che segue il libro in cui si dice uno dei problemi nei rapporti tra statistica centrale, Istat all'epoca e altre amministrazioni finisco molto rapidamente il rapporto tra altre amministrazioni e statistica dipende proprio dal fatto che c'è una conoscenza tacita su come si producono dati su singoli oggetti, su singole pratiche amministrative che il singolo statistico o addirittura il singolo impiegato dentro un ufficio conosce ma non trasmette al di fuori è un problema che esiste storicamente e può essere risolto soltanto allora è stato storicamente risolto formalizzando queste procedure in maniera anche autoritaria può essere invece risolto in maniera diversa in qualche modo spingendo ciascuno a riflettere su quello che sta facendo e a in qualche modo registrarlo questo è in qualche modo un'utopia democratica della produzione del dato perché non è affatto detto è un'utopia che torna l'idea partecipativa è di riuscire a comunicare i problemi propri di quello che si fa concretamente è un'idea che nel corso del novecento è tornata spesso e di cui appunto Letizia si è occupata e appunto ripeto quello che so su questo in buona parte dipende da quello che ho letto che lei ha scritto credo che questo della gestione del patrimonio informativo ai fini di un'analisi storica quindi in una prospettiva di lungo periodo sia una cosa che noi adesso stiamo abbastanza affrontando è quella che noi chiamiamo documentazione grigia tecnicamente cioè su come si gestiscono i processi come si affrontano i momenti di criticità quali procedure vengono attuate nei casi eccetera è in una certa misura documentata nei nostri documenti e contributi di ricerca sono due collane dedicate però certo quello che serve è una sistematicità di documentazione non solo una spontanea rappresentazione di chi sta nei processi credo però che c'è un altro problema sostanziale per gli storici oggi ed è quello della ammesso che si sia documentato quello che si fa e si sia argomentato sulle ragioni delle scelte e dei passaggi c'è un problema di trasmissione di questo patrimonio noi già oggi non siamo più in grado di leggere o quasi non siamo più in grado di leggere i nostri documenti scritti in Worldstar dieci anni fa quindici anni fa la digitalizzazione se da un lato ha moltiplicato le capacità di documentazione dall'altro ha creato nuovi problemi che è quello della continuità dei formati e dei supporti perché c'è un problema fisico e c'è un problema logico credo che questo sia adesso io non so se voi avete esperienza di iniziative dentro altre amministrazioni ma credo che per la statistica ufficiale questa sia una questione decisiva perché ricostruire tra 50 anni quello che è stato fatto oggi o dieci anni fa in assenza di una capacità di lettura di questa documentazione pur presente e pur magari fisicamente disponibile debba essere garantita da un progetto oggi quindi lo dicevo per dire che questo problema ha molte altre sfaccettature oltre quello iniziale del documentiamo cosa facciamo documentiamo cosa facciamo e decidiamo quali sono le modalità di conservazione e di disponibilità tra 50 anni e quindi credo che su questo sia altrettanto necessario avviare una iniziativa che forse troverebbe anche una collaborazione può trovare una collaborazione per capire quali sono le piste più importanti su cui muoversi ringrazio la dottoressa Buratta effettivamente è il grande tema quello della conservazione e del formato anche della documentazione della conservazione è un problema che molti archivisti si stanno ponendo hanno affrontato anche con delle soluzioni devo dire ottimali che naturalmente deve fare i conti con il cambiamento della tecnologia e quindi con la continua diciamo periodica trasmigrazione poi su supporti informativi diversi lasciando comunque mantenendo la traccia sempre anche del passaggio trasmigrazione e questo è un problema che tecnicamente è stato risolto e che devo dire consente di portare di mantenere nel tempo patrimoni anche molto consistenti di informazioni quello che volevo semplicemente accennare è che nella conservazione dell'informazione della documentazione sia quantitativa che qualitativa il processo di selezione acquista una rilevanza sempre diversa a seconda del periodo storico in cui viene svolta perché la rilevanza è data anche dalla domanda di informazione anche storica non contingente ma anche di informazione storica quindi lo storico di oggi chiede molte più informazioni e di tipo diverso rispetto allo storico di ieri perché sa che dentro gli archivi c'è una disponibilità decisamente diversa di informazione sia in termini quantitativi che in termini qualitativi sia in termini anche di disponibilità di accesso rispetto e di facilità di accesso rispetto al passato quindi questo naturalmente è un altro aspetto che deve essere tenuto in considerazione nel momento in cui si fa anche una politica di conservazione ovviamente dell'informazione per fare un ragionamento di tipo metodologico perché in prima battuta ho trovato molto interessante l'avvio della relazione dell'intervento del professor Favero quando lui diceva ha detto mettiamoci nei panni estremi dello storico del futuro e ha continuato il suo racconto beh secondo me questo punto di vista che è affascinante però mi crea qualche problema perché qui non si tratta tanto solo di una cosa che potremmo chiamare un salto ermeneutico ma addirittura una capriola è una capriola ermeneutica nel senso che dobbiamo supporre oggi di essere in grado di capire che cosa potranno pensare in futuro gli storici assumendo che gli storici del futuro guarda caso si pongano lo stesso tipo di problemi con lo stesso tipo di modelli in mente che oggi adottano gli storici in questa eccetera insomma è un doppio un doppio salto ermeneutico tra l'altro molto interessante perché poi anche se è un po' complicato da seguire perché poi questo porta questo ragionamento alla fine porta il professor Favero ad adottare un approccio come dire in generale che definirei in generale da antropologia storica il desiderio cioè addirittura di riuscire a cogliere quella che è la cultura tacita di una comunità tecnico-scientifica come può essere la comunità tecnico-scientifica espressa ad esempio dall'Istituto Nazionale di Statistiche ora ma se questo è vero io credo che la sua sfida debba essere accettata però agli storici chiederei un approfondimento di tipo metodologico e concettuale ulteriore e cioè chiederei agli storici diventare dei veri antropologi almeno per qualche mese perché c'è un punto e voglio essere come dire chiaro per farmi capire meglio se questo è l'approccio la domanda è ma siamo proprio sicuri che ci basti capire per rappresentare il funzionamento della statistica in Italia come le cose vanno in Istat la risposta è necessariamente no ma se non ci basta capire quello che succede in Istat dove dobbiamo andare a cercare analoghe informazioni cioè informazioni relative ad esempio quella cultura professionale anche tacita che contribuisce alla produzione statistica e il secondo luogo oltre al dove in quali luoghi specifici si produce quella cultura tacita attenzione abbiamo bisogno davvero di un approccio tipo antropologico però fine ora io suggerisco di ragionare su altri tipi di fonti particolari che potrebbero essere molto interessanti e adotterei gli abiti proprio degli antropologi gli antropologi tra le altre cose che studiano studiano i rituali per quale ragioni sono importanti i rituali studiati per quale ragione sono importanti perché nelle società primitive attenzione e non solo naturalmente i rituali sono degli indicatori simbolici di uno spazio di incertezza sociale per risolvere o per gestire il quale gli esseri umani tendono a riunirsi d'accordo in rituali a produrre rituali e unirsi anche ritualisticamente ora da questo punto di vista uno dei luoghi una delle fonti dunque per lo storico statistico non è tanto l'atto senz'altro l'atto formale del consiglio o l'atto formale del comitato eccetera ma una delle fonti più importanti potrebbero essere proprio quei gruppi di lavoro spesso quei gruppi di lavoro interistituzionali all'interno dei quali membri di comunità tecnico-professionali diverse discutono e cercano di trovare soluzioni a problemi che in tribù diverse si pongono in modo diverso la tribù dell'Istat ragiona in un modo la tribù dell'Inps ragiona in un altro modo la tribù del MEF ragiona in un terzo modo ancora per non parlare della tribù del comune di Roma ora quando si debbono risolvere quei problemi bisogna capire come si chiama disoccupazione al comune di Roma al MEF all'Inps all'Istat e all'Istat ci sono 7-8 tribù eccetera bisogna inventarsi un rituale cioè un'occasione matrimoniale in cui le famiglie si incontrano e risolvono in modo convenzionale rituale i problemi definitori dando poi una veste o istituzionale o addirittura scientifica alla soluzione matrimoniale trovata all'interno del gruppo di lavoro quindi insomma il suggerimento generale di continuare lungo l'analisi secondo questo tipo di approccio ma stando attenti a non interloquire solamente con le istituzioni formali e con gli organi di governo delle istituzioni formali ma con i luoghi all'interno dei quali le istituzioni si confrontano tra di loro non partendo mai dal presupposto che la cultura statistica pur essendo una cultura tecnica sia una cultura unitaria grazie dell'intervento e sono totalmente d'accordo sull'approccio antropologico e su questa cosa mi è venuta in mente per stemperare con una battuta c'è un uno scrittore veneziano che racconta la sua avventura americana va in america a insegnare all'università non conosce l'inglese continuano a invitarlo a questi kamirimiri che lui interpreta come rituali di tribù che sono i committee meeting quindi gruppi di lavoro che effettivamente funzionano come rituali sono perfettamente d'accordo a non fermarsi sull'aspetto istituzionale spesso per gli storici però l'aspetto istituzionale è il punto di partenza per poi capire le grandi fazioni che si incontrano perché anche il consiglio superiore in fondo è uno di questi rituali in cui tribù amministrative si incontrano invece sulla capriola ermeneutica non era così cioè nel senso non è che noi dobbiamo immaginare adesso che gli storici useranno i nostri metodi è proprio perché non possiamo sapere che cosa chiederanno che noi dobbiamo tenerci aperte che è un ustente estremo che perché ci costringe a lasciare aperte tutte le possibilità quando produciamo il dato tutte le possibilità di elaborazione anche quelle a cui adesso noi non penseremmo questa era l'idea un po' è sempre una capriola allora ringrazio Zamaro perché effettivamente la la suggestione è notevole e tra l'altro l'altra tribù è anche quella internazionale di cui appunto avevamo cominciato a parlare prima perché poi lì il problema si pone quando ogni ogni paese chiama in un modo con un linguaggio diverso usa un linguaggio diverso per definire la stessa cosa e allora lì è ancora più complesso mettere d'accordo tribù che parlano lingue diverse hanno anche capacità di organizzazione della propria della propria attività diversa ma tracciano anche in maniera diversa i passaggi definitori e classificatori internazionali anche lì insomma è importante provare a fare una riflessione e non dimentichiamo l'altra l'altra fonte che sono le riviste di cui in questo contesto non abbiamo parlato ma anche le riviste scientifiche sono altri luoghi di riflessione naturalmente in cui gli statistici si confrontano e forse a volte si confrontano soprattutto le riviste internazionali si confrontano su metodi sulle metodologie imparano anche a confrontarsi all'interno di comunità più ampie rispetto a quelle all'interno delle quali operano quotidianamente parliamo ancora anche dell'accademia delle comunità accademiche parliamo anche di invece tutto un mondo non formalizzato meno formalizzato che quello costituito dalle associazioni che sono diventate un interlocutore importante anche per la statistica ufficiale e che spesso pongono anche ci mettono di fronte a una domanda un fabbisogno di informazione statistica inedito con il quale non si riesce ancora a fare i conti in maniera adeguata ed è un fabbisogno di informazione che lo storico del futuro probabilmente di cui lo storico del futuro troverà traccia probabilmente nelle associazioni e cercherà la traccia del recepimento delle suggestioni dei suggerimenti che vengono da questo mondo meno formalizzato anche nella documentazione degli istituti nazionali di statistica che si trovano a confrontarsi con un mondo completamente diverso a quello a cui era abituato l'altro suggerimento è anche quello è girato l'altra cosa che è venuta fuori l'Inps per esempio però perché l'Inps l'Inps perché per esempio in questo caso rappresenta una fonte straordinaria forse l'unica noi abbiamo anche dei serbatoi ormai che agiscono in regime quasi di monopolio di informazioni statistiche che rivestono una rilevanza fondamentale e che devono essere rese disponibili per gli storici anche presso le sedi in cui sono prodotte non soltanto veicolate dall'Istituto Nazionale di Statistica che utilizza o rielabora o elabora i dati ma proprio presso le sedi produttrici di dati parlo dell'Inps ma parlo degli archivi dei ministeri del ministero del lavoro degli archivi del ministero dell'interno degli archivi del ministero dell'economia e delle finanze sono archivi importanti e che rivestono un peso sempre maggiore all'interno di un sistema che non è più l'Istituto Nazionale di Statistica di stampo novecentesco ma è all'interno del SISTAN di un sistema molto più ampio articolato in cui è assolutamente necessario andare a ricercare le fonti di informazione ufficiale non soltanto quindi rivolgendosi all'Istat quindi questo è un invito agli storici del futuro di recarsi andare a cercare le fonti ovunque esse siano prodotte richiedendo e pretendendo un rigore anche nella conservazione del materiale e una disponibilità di accesso esattamente come viene richiesta all'Istituto Nazionale di Statistica se qualcuno ancora qualche altro suggerimento mi piaceva molto il suggerimento di Zamaro creiamo occasioni di incontro tra tribù perché almeno diciamo arriveremo prima o poi a un dizionario unico ecco cioè in cui un termine ha la stessa valenza per tutti ecco questo mi sembra un approccio quindi creiamo occasioni rituali ecco io ringrazio tutti e speriamo di avere appunto altre occasioni per discutere ancora di questo tema arrivederci grazie